Presidente, realizzazione di progetti di innovazione tecnologica in collaborazione anche con le piccole e medie imprese, di cosa si tratta? Noi abbiamo messo in campo risorse finanziarie per sostenere l'innovazione tecnologica, l'innovazione organizzativa e l'innovazione di prodotto. Questo poiché crediamo che questa sia la stagione anche della competitività e della capacità di funzionamento nazionale ed internazionale affidata all'innovazione che consente qualità, resilienza, consente ricaduta occupazionale. Sono 233 iniziative imprenditoriali che vengono sostenute da Regione Abruzzo. Oggi sul piano delle politiche industriali attive c'è questo, presto vi presentiamo anche un'altra parte di politiche industriali attive che è la collocazione di siti di attrazione di investimenti industriali nuovi, cioè fare attrazione nel senso non della gestione delle carte ma della messa insieme di convenienze che determinano il convincimento all'investitore a venire a fare investimento qui, sia quelli che vengono da fuori del circuito regionale e nazionale sia di quelli che sono qui e decidono di fare dell'altro ancora aggiuntivamente. 223 le imprese coinvolte nel progetto ma c'è effettivamente una speranza di cambio di rotta? Noi ci dobbiamo concentrare tutte le risorse che abbiamo perché il problema dell'Abruzzo è fondamentalmente oggi questo. Noi abbiamo fatto varie misure ma trovandoci adesso nell'opportunità di dover reinvestire questi 8 milioni di euro che sono un residuo del FES 713 abbiamo deciso, l'Europa ce l'ha accettato di fare un bando particolare, un bando cioè anche si chiama retrospettivo, cioè un bando che accettasse investimenti fatti durante tutto questo anno, purché investimenti presentabili come investimenti per l'innovazione. Noi riusciremo con 8 milioni a finanziarne circa 180, quindi è una bella boccata d'ossigeno per le imprese abruzzesi, naturalmente non è risolutiva dei problemi, noi dobbiamo fare una politica organica per quanto riguarda, ripeto, fondamentalmente l'accesso al credito.